oggi vi voglio parlare dei bordi laterali cioè come lavorare le maglie di margine la prima e l'ultima credo che sia l'argomento trascurato e molte volte addirittura considerato poco importante ho scelto tre modi è un bordo tre modi di lavorare un bordo a catenella un bordo a nodini lo impareremo sul campione di legaccio e anche di maglia rasata catenella nodini e il bordo a tubolare questo e questo sul legaccio e sulla maglia rasata per farvi vedere come si lavora utilizzo questi ferri corti ma per una ragione sola perché è molto più comodo fare un video voi ovviamente potete utilizzare i ferri che utilizzate normalmente cioè lunghi oppure corti il mio modo di lavorare è il modo continentale ma in questo non vuol dire niente voi potete lavorare utilizzando il vostro modo cioè se siete abituate a tenere il filo nella mano destra tranquillamente utilizzatelo tenendo nella mano destra ho lavorato un ferro di legaccio giro metto il filo dietro e lavoro con la prima maglia il legaccio si lavora sempre a diritto quindi continuo fino in fondo giro di nuovo sistemo il filo dietro in questo modo attenzione a non fare la maglia ritorta questa è ritorta per approfondire il discorso della maglia ritorta guardate il mio video precedente si crea il bordo a nodini grazie